Siamo in una fase ancora di allineamento, però le cose sono andate decisamente bene come ci aspettavamo. Le difficoltà non sono mancate ovviamente, soprattutto per la clientela che si è recata agli sportelli in modo massiccio. Ce l'aspettavamo, lo sapevamo, i colleghi erano stati preparati già da molto tempo e quindi siamo riusciti comunque a dare un servizio che riteniamo soddisfacente. Chiaro che ogni giorno è migliore di quello precedente, ci auguriamo che sia così i riscontri anche della movimentazione, estremamente intensa, vi assicuro anche a livello telematico ci stanno dicendo che le cose stanno progressivamente migliorando. Andare agli sportelli in questi giorni in cui abbiamo trovato la coincidenza di alcuni momenti oggettivi come le scadenze fiscali piuttosto che l'incasso delle pensioni ovviamente crea un po' di disagio per le file. I colleghi comunque sono a disposizione all'ascolto, hanno gli strumenti per poter risolvere le problematiche anche le più banali, i colleghi gestori di imprese sono tutti in contatto con le proprie aziende e clienti per cui riteniamo che il contatto sia in filiale, sia remoto con i sistemi telefonici o telematici possa essere comunque effettuato in qualunque momento il cliente ritenga necessario e utile. Non abbiamo integrato solo filiali ma abbiamo integrato due banche Carige e Banca Montelucca, una terza banca è stata integrata Banca Cesare Ponti pur mantenendo la propria legal entity autonoma quindi sono stati integrati tre sistemi operativi in un unico sistema operativo quindi per questo è stata effettivamente complessa. La presenza così capillare territoriale di Carige oltretutto anche dal punto di vista dimensionale ha imposto un'attenzione molto particolare, considerate che sono ormai otto mesi che lavoriamo e facciamo test in remoto per verificare che tutto poi come ritengo sia andato potesse andare bene. Sono circa 500 i colleghi che hanno partecipato all'attività di migrazione, sono tuttora presso le filiali e presso gli uffici centrali, rimarranno per tante altre settimane direi fino a gennaio per cui questo permetterà veramente di aiutare la clientela e soprattutto i colleghi in filiale per arrivare a regime e considerare conclusa la migrazione. Vorrei fare un plauso soprattutto ai colleghi Carige che oggi sono diventati i nostri colleghi biper perché si stanno comportando in modo veramente egregio con tanta pazienza, tanta pazienza nei confronti degli allineatori, tanta pazienza nei confronti dei clienti e penso che stiano loro sancendo il successo dell'attività di migrazione. Grazie